Chi siete? Sì, sì. Mattinata speciale per 50 bambini della scuola Filippo Montesi di Fano. Questa mattina anziché varcare i cancelli della scuola, alle 9 hanno varcato le porte degli studi di Fano TV assieme ai loro docenti. Con sguardi rapiti, carpendo ogni dettaglio in ogni stanza che passavano, man mano sono arrivati fin dentro il grande studio che ospita il Tg Occhio alla Notizia e la rassegna stampa Occhio ai giornali. Ad aspettarli c'era il direttore Marco Ferri che dopo una breve presentazione degli altri componenti dello staff, giornalisti, operatori video e regia e di come si crea un telegiornale, si è sottoposto al fuoco di fila delle domande che i ragazzi, i quali a loro volta secondo un progetto scolastico, poi faranno un reportage per il loro notiziario scolastico. È nata da un percorso, da un progetto che faremo a scuola, una costruzione vera e propria di un Tg, Tg School 24, che i ragazzi stanno preparando sia per quanto riguarda la stesura dei testi, che poi andranno a leggere, che sia dal punto di vista tecnico e tecnologico. Quindi costruiranno proprio delle edizioni, dovranno essere tre edizioni nel corso dell'anno. Ecco, loro come hanno preso questa visita qui a Fano TV? C'era molto interesse? C'era molto interesse e molto entusiasmo come avete visto perché comunque hanno la possibilità di vedere dal vero, anzi vi ringraziamo molto per la disponibilità perché non è così scontato e quindi loro adesso stanno girando qui nello studio, in regia, in redazione a vedere i vari momenti di una costruzione di un Tg. Curiosità, aneddoti, i perché e i per come fare il mestiere del giornalista, ma come sempre anche le telecamere e il lavoro dell'operatore hanno catturato la curiosità dei piccoli giornalisti in erba. Allora Luca, che cosa ti è piaciuto di questa visita a Fano TV? Quasi tutto, perché l'ufficio è molto bello e anche il lavoro. Ti piace il lavoro del giornalista? Abbastanza Qual è la cosa che ti piace di più? Le telecamere, la scrivania, qual è la cosa che ti piace? Le telecamere Le telecamere, vuoi fare l'operatore? Mh Vuoi prendere il posto di Filippo Pulci? Ho capito. Tu invece cosa vorresti fare se fossi una giornalista? Il lavoro di Marco Ferri Ecco, e quindi... Vorrei leggere, vorrei leggere Ti piace stare sulla scrivania? Sì Senti, ma Fano TV ti piace, la guardi? Sì, la guardo tutte le sere Tutte le sere? Sì Benissimo, anche stasera immagino Ovviamente Ma qual è l'aspetto che ti piace di più? Lo studio Che poi, sotto la guida del direttore, del regista Riccardo Sora, assieme all'operatore Giacomo Vitali, per alcuni di loro si è concretizzata l'ebrezza di calcare i ruoli di conduttore, operatore e regista in una simulazione registrata di un'edizione speciale di Occhio alla Notizia Buonasera a tutti Grazie a tutti e questa è una nuova edizione di questo telegiornale Grazie di aver ascoltato questo telegiornale Per oggi è tutto e buonasera a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti